buongiorno a tutti e bentornati sulla mia web tv motori siamo a ivrea e siamo al via della seconda tappa di questo memorial con rero 2014 ieri è stata una giornata molto difficile molto lunga pensate che solo 19 vetture della categoria rally e 14 della categoria regolarità sport sono hanno terminato la gara in posizione diciamo normale oggi però abbiamo saputo che molte vetture con una formula simile al super rally ritorneranno in gara questo ha tutto vantaggio dello spettacolo come la mia web tv motori come abbiamo annunciato seguiamo questa seconda giornata vi ricordo ancora che in settimana faremo una puntata speciale con due servizi il primo interamente dedicato a rally il secondo dedicato alla regolarità sport alle vetture all star un po' di più un po' di più Musica 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 Grazie a tutti.